Loro hanno tutte le carte in regola per passare, per andare a questa Final Four, ma noi diremmo la nostra, come abbiamo fatto sempre fino adesso e come vogliamo continuare a fare. Dobbiamo giocare, lottare, giocare seriamente, con responsabilità, approfittare di una partita così, perché non tutti i giorni si gioca contro giocatori di quella stazza con una squadra come quella lì. Quindi è tutto da guadagnare per noi, in tutti i sensi. Andremo a giocare come abbiamo sempre fatto, perché abbiamo sempre lottato, come ho detto, e questa speriamo sia ancora una partita per fare una prova del genere. Non basta battere o non sbagliare tanto, o magari murare anche, bisogna essere più cinici, più contundenti in attacco e ricavare più punti su quella via lì. Poi ci stanno gli altri, c'è l'altra squadra che ti lascia o non ti lascia fare, perché in realtà non è che abbiamo sbagliato, tirato fuori o ci hanno murato. Loro sono stati bravi a difenderci tanto, però credo che è quello lì che dobbiamo sicuramente migliorare l'attacco. Alessio Buonpasso per la Cineus24